Vabbè, comunque arriviamo all'amore più travagliato della sua vita, che ovviamente è quello con Mark Caltagirone. Lo ricordiamo per settimane, per mesi, diciamo, è andata in una serie di programmi a raccontare di questa sua storia d'amore. Io non sono andata in tanti programmi, diciamo che l'hanno raccontata più gli altri e che a oggi nessuno ha raccontato effettivamente come stanno le cose. Ma adesso ci arriviamo piano piano. Comunque, intanto non era vero niente, quindi la prima domanda è come sta lei? Non sto bene, purtroppo non sto bene, anche perché chi non ci passa non può capire. Quindi c'è l'inganno, c'è l'elaborazione del luto di una persona che tu pensavi che ci fosse, che ci fosse una famiglia, e poi scopri in un modo veramente terribile e ci stai male, ti senti proprio umiliata, mi hanno massacrata, c'è stata un'agogna mediatica ingiusta, sono stata un business mediatico. Vabbè, ne parleremo affatto parte pure lei di quel business, ma lei... No, no, io non ho fatto parte di questo business, assolutamente no. Allora, sul Corriere della Sera Aldo Grasso ha scritto... Sì. ...l'evento televisivo più chiacchierato è una bufala, una fake news, il trionfo del trash più squallido. Che effetto le fa esserne stata comunque la protagonista? Mi fa male, perché nessuno mai è andato a fondo a capire come stanno davvero le cose. Beh, insomma, è stata una dei grandi gialli italiani, uno dei misteri italiani. L'ha fatto la televisione, l'hanno fatto i giornali, non l'ho fatto io. Io sono andata pochissime volte, perché ero dentro un sistema, mi avevano studiato da tempo e hanno beccato il mio momento dove ero più sensibile per colpire. È come il sarto che ti cuce a dovere un abito. Lei ha detto la cosa che mi ferisce di più... Sono abilissimi. Adesso cerchiamo. Lei ha detto la cosa che mi ferisce di più è che intorno a Roberto Cazzaniga, che è il pallavolista vittima per 15 anni di una truffa amorosa, si è formato un cordone di solidarietà. Quando è successo a me sono stata messa all'agonia. Diciamo che lei comunque non è stata creduta. Non sono stata? Creduta. Non sono stata creduta, perché hanno trasmesso delle cose che non corrispondono alla verità. Ci sono delle indagini in corso e nel tempo usciranno. Perché ci sono ancora delle cose che non si sanno? Certo. Tipo? Non le posso dire. Perché? Perché ci sono delle indagini. In molti hanno dubitato della sua sincerità perché oggettivamente lei ha dato il suo... contributo, lei attivamente, insomma, ha partecipato alla bufala, ha detto delle bugie. Quindi... Che bugie ho detto? Lei... Allora, chiariamo i punti. Che bugie ho detto? Ma io guardi, non voglio rientrare nella storia, nei dettagli perché non è in programma questo. Però quello che le voglio dire è che è legittimo mettere in dubbio la sua buona fede. E questo lei lo capisce, no? Bisogna spiegare le cose come stanno. Fino ad oggi non sono state spiegate. E neanche questo è il programma perché ci vorrebbe tempo. Certo. Come lei non mi crede, non mi credono tante altre persone. Perché sono una donna. Cazzaniga è un uomo poverino. Una donna è una stupida, una cretina. No, però anche quando viene violentata è però amicava, è colpa sua. No, vabbè, non può mettere però sullo stesso piano una violenza psicologica. La donna è stata fatta una violenza psicologica e anche fisica che lei non sa. Quindi se lei non sa... Ma allora le chiedo una cosa, le chiedo una cosa, mettiamola così. È possibile che a un certo punto queste persone che le hanno costruito intorno a questa truffa conoscevano le sue fragilità e quindi sono andate. dove sapevano di cogliere bene. Esatto. Dopodiché lei magari dice... Lei comunque ha partecipato, no? E comunque nelle trasmissioni... Ma dove ho partecipato? Nelle trasmissioni... Io mi sono alzata e sono andata via, se si ricorda. Nelle trasmissioni qualche volta ci andava, immagino, anche giustamente pagata. Quindi è possibile che lei... No, non sono stata pagata. È possibile che lei a un certo punto... Non sono andata. Non è sempre gratis. Non sono stata pagata. È possibile che a un certo punto lei si sia un po' resa conto di quello che le stava girando intorno e non sapeva neanche lei bene come uscirne. Questo è possibile? No. Io mi sono resa conto di tutto quello che mi avevano fatto in uno studio legale, dove mi hanno messo davanti alla realtà. Questo. Cioè le hanno costruito una realtà, vuole dire? Non mi hanno costruito una realtà. Mi hanno fatto vedere quello che mi stavano facendo, quello che mi stava accadendo, che tutto quello per cui io stavo combattendo non esisteva. Questo. No, perché lei ha raccontato che l'aveva conosciuto, Marche Caltagirone in televisione ha detto che l'aveva conosciuto, che non era vero. Io lo sento in articolo, ci scrivevamo. Ha detto che vi eravate incontrati, conosciuti fisicamente e poi non era vero. Quando tu vieni anche minacciata da un sistema... Cioè lei ha subito delle minacce? Sì. Di che tipo? Minacce di che tipo? Non posso andare oltre. Cioè, però questo è un punto importante. È certo che è un punto importante. Anche un punto importante a suo favore, nel senso che... Sì, sì, ma io l'ho detto anche da Giletti questo. Eh. Allora, da Giletti, visto che lei è uscita al programma, Roberto D'Agostino le ha detto avevi fatto i soldi con una storia inventata e accettata da tutte le televisioni. Quando uno finisce nel carrello dei bolliti perde la testa. La celebrità... Quando una... Le ha detto quando uno finisce nel carrello dei bolliti perde la testa. La celebrità oggi è questa. No. Allora, io non ho guadagnato un centesimo. Proprio no. Anzi, il lavoro che avevo prima non ce l'ho più. Non mi chiama più nessuno. Che cosa... Che cosa mi ha portato questa storia? Eh, che... Beh, insomma... Eh no. Diciamo una pubblicità negativa. Una pubblicità negativa. Esatto. Allora sarei proprio una stupida che mi sveglio la mattina dopo 45 anni di carriera, amata da tutti, e decido di inventarmi una cosa del genere. Sarei proprio una stupida... Ma... Di quelle che proprio... È possibile che lei, diciamo, abbia secondato il tritacarne mediatico pensando di dominarlo e finendone dominata? No. Io sono stata ingannata. Mi è stata costruita una trappola. Una trappola incredibile. Senta, ma se il sito d'Agospiano l'avesse poi rivelato la verità, come sarebbe finita? Non lo so, magari non sarei qui. Cioè, ma quel matrimonio ci sarebbe stato pagato con un povero Cristo preso lì a far finta di essere... Non lo so, invece lei si deve domandare chissà se io potevo essere ancora qui e potevo respirare. Questo si deve domandare. Cioè, lei mi sta facendo capire che è stata minacciata a tal punto che la sua vita stessa... Che lei ha rischiato, questo mi sta dicendo? Ho rischiato, sì. Ma la vita? Sì. Se ci dice così, però, insomma, è una cosa importante che sta dicendo. Che tipo di minaccia ha ricevuto? Non lo può... Già ho detto troppo. Cioè, comunque c'è un processo aperto su questo. Certo. Infatti, grazie al mio avvocato...